Penultimo appuntamento del Moto Mondiale, si torna a correre a Sepang nel circuito che vide la morte 11 anni fa di Marco Simoncelli e appunto oggi il Moto Mondiale ha corso anche nel suo ricordo regalando tre gare molto interessanti per quanto riguarda Moto3, Moto2 e MotoGP con categoria regina e intermedia che hanno ancora il titolo del mondo da segnare, Moto3 invece una gara soltanto per le statistiche ma comunque molto interessante. Ma come al solito andiamo a volerne nel primo dei due recent podcast di questo weekend, il prossimo uscirà domani e parlerà della Superbike Gran Premio di Argentina su circuito di San Juan ma tornando a bomba a quello che è successo stamattina a Sepang in Malesia abbiamo delle note importanti da raccontare, in particolare la notizia della vittoria di Francesco Bagnaia la settima in stagione per una vittoria che va ad allungare sensibilmente verso il titolo del mondo MotoGP che non è ancora chiuso per quanto riguarda la matematica visto lo stoico e l'ottimo Fabio Quartararo oggi nella pista malese ma comunque diciamo che Bagnaia ha un piede e mezzo salvo cose clamorose dell'ultima gara di Valencia appunto verso il titolo del mondo 2022, titolo che peraltro sarebbe oltremodo meritato. Bagnaia comunque si è reso protagonista di una bellissima gara, un gran duello con Enea Bastelini che sarà ricordiamo il suo compagno di squadra il prossimo anno nella Ducati Ufficiale, Bastelini poi si dovrà accontentare della seconda posizione e appunto terzo è Fabio Quartararo che doveva comunque limitare i danni con Bagnaia vincitore e infatti così è stato, ancora una volta però Quartararo ha dimostrato di essere un fenomeno rispetto alla moto che guida visto che ha limitato i danni con questo podio che non fosse arrivato avrebbe seriamente compromesso il titolo del mondo del francese che ricordiamo è comunque campione regnante di categoria MotoGP. Quindi vittoria di Bagnaia meritata, certo però che è stata anche frutto della caduta di Jorge Martin, pilota spagnolo che ha fatto una proposizione straordinaria in qualificazione con l'1-57-7, ovviamente il record della pista. Lo spagnolo aveva un po' di vantaggio su Bagnaia e gli inseguitori, un secondo due per la precisione, si stende in curva a 9 e dice addio alle speranze di vittoria. Di conseguenza quel duello che tra Bagnaia e Bastianini poteva sembrare per la seconda e terza posizione si è poi rivelato un duello per la vittoria, vinto appunto dal pilota piemontese che appunto allunga sensibilmente in testa al Mondiale MotoGP a una sola gara dal termine, quella di Valencia al circuito Riccardo Tormo che si correrà il 6 di novembre. Sono 258 punti per Francesco Bagnaia che vince anche una volta in questa stagione, sono 7 vittorie in totale per quanto riguarda il pilota piemontese e dunque per la settima volta sono il canto degli italiani, il nostro inno nazionale. Secondo è Enea Bastianini che sta lottando con Alexis Pardaro per il titolo platonico di medagliato di bronzo a questo Mondiale e terzo punto è Fabio Quartaro che, lo dico subito, è il mio rider del giorno senza se e senza ma perché è vero che la vittoria di Bagnaia è significativa perché ricordiamo che il pilota piemontese partiva dalla nonna posizione ma è altrimenti un dovero che i principali contender prima di oggi a titolo del mondo, ovvero Espargaro e Quartaro partivano assolutamente in linea con Bagnaia perché Espargaro partiva decimo, peraltro piazzamento governato al traguardo, Quartaro partiva addirittura dodicesimo e arrivare terzo con una moto inferiore dimostra come il pilota francese di Nizza sia assolutamente come talento puro in questo momento sicuramente anche superiore a piloti che stanno giocando il Mondiale, vedi appunto per esempio Bagnaia, Bagnaia però comunque oltre a avere il treno della sua anche una moto che oggi oggettivamente era ingiocabile Quartaro invece fa una prova molto solida e un po' va a riscattare quei piazzamenti che erano veramente deludenti nel trittico asiatico oceanico precedente a questa gara della Malesia, quindi Giappone, Thailandia e Australia un terzo posto che tiene aperte le speranze solo però per la matematica perché è evidente che per vincere il titolo del mondo a Valencia Quartaro dovrebbe vincere e sperare che Bagnaia o non vada a punti o praticamente finisca a quindicesimo perché bastano due punti per Bagnaia anche per difendere il titolo del mondo perché qualora si arrivasse ex equo in prima posizione a punteggio verrebbe premiato Bagnaia per il numero di vittorie maggiori del corso della stagione ciò non toglie appunto che la grande prova di Quartaro tenga aperto però per la matematica mondiale che Bagnaia veramente è destinato a vincere se non per errori praticamente altrui il mondiale è praticamente compromesso però Bagnaia a parte l'errore grave di Motegi dove si è steso per colpe sue le altre gare è stato veramente un martello perché tutte le gare le vediamo da assen in avanti tutte vittorie tranne tre podi e insomma è un pilota che si merita oggettivamente questo titolo del mondo certo non sarà carismatico come altri piloti ma a me piacciono molti piloti che lavorano in pista che danno veramente il meglio di sé e che fuori siano anche magari più bacani di personaggi anche più mediatici forse per questo che ingiustamente anche Bagnaia si prende molte critiche sui social nonostante abbia dimostrato un ruolino di marcia invidiabile da vero campione quale è in questo momento perché rimontare 90 passapunti di svantaggio su Quartaro non è assolutamente facile e di certo non lo fai se non sei un fenomeno certo perché Ducati aiuta ma Bagnaia ci ha messo anche tanto del suo e anche Quartaro va detto ci ha messo tanto del suo perché la Yamaha sappiamo perfettamente che non è la moto migliore comunque arriveremo tutte le settimane a commentare sicuramente il nuovo campione del mondo MotoGP o il primo titolo del mondo per Bagnaia che nel moto mondiale Rantenne ha già vinto un altro in Moto2 oppure il secondo consecutivo in MotoGP di Fabio Quartaro che invece è nelle categorie proprietà che non ha vinto nulla comunque è stata una bellissima stagione e mi auguro da Ducatista che possa arrivare a vincere Francesco Bagnaia molto bene anche il Vesta di Rimini che si conferma un pilota di assoluto valore come talento pura ma ha sempre impressionato meglio Bastellini rispetto a Bagnaia anche nelle categorie proprietà eutiche in MotoGP è emerso più velocemente Bagnaia Bastellini è arrivato già dall'anno scorso con la Ducati del Team Avintia a fare podi qui ha fatto vittorie e podi a ripetizione segno che il posto ufficiale in Ducati sarebbe meritato appunto il Vesta di Rimini e sarà importantissimo vedere l'anno prossimo una bellissima coppia giovane italiana su moto italiana appunto Bagnaia e Bastellini da Ducati con la P come la chiamata Guido Meda in telecronica gli altri piazzamenti appunto abbiamo detto grandissimo podio per Fabio Quartaro ma grandiosa quarta posizione per Marco Bezzecchi che si conferma senza se e senza mai il rookie dell'anno di questa classe regina conferma il piazzamento in Australia il pilota con il numero 72 che ha fatto veramente una stagione clamorosa già un podio al primo anno con i Ducati clienti del Team VR46 non all'altezza delle aspettative quantomeno alla vigilia e invece Bezzecchi ci ha messo ampiamente una pezza e ha dimostrato che lui è un altro giovane italiano su cui secondo me per il futuro si può tranquillamente puntare le altre posizioni quinta per Alex Rins alla penultima gara della Suzuki nel moto mondiale Rins che comunque si conferma nei migliori dopo aver vinto molto bene in Australia sesta posizione per Jack Miller anche lui alla penultima gara in Ducati ufficiale in vista del passaggio in KTM ufficiale al fianco di Brad Binder l'anno prossimo settimo è Marc Marquez che comunque fa una buona gara di gruppo e archivia dei punti importanti ma solo per il morale ottava posizione per quanto riguarda Brad Binder con una KTM che si conferma di fatto la quarta delle ufficiali nono è Johan Zarco per una team Pramac che fa come sempre la gara del gambero Martin era primo e si è steso Zarco partiva sempre nelle prime posizioni di qualificazione e poi arretra fino ai punti bassi della top 10 e chiude questa top 10 a Alex Spargaro che conferma il risultato della qualificazione arrivando decimo va detto però che appunto con questo decimo posto e Spargaro è di fatto trato fuori anche armeticamente dal mondiale non che prima fosse un totale pretendente al titolo del mondo perché le ultime tre gare le vediamo undecisimo, nono e decimo però tanta roba per la società dell'Aprilia in generale per Alex Spargaro che di fatto è un grande veterano di questa categoria gli altri italiani per chiudere questo podcast sulla MotoGP si ritira Luca Marini per un problema tecnico Farnco Morbidelli fa undicesimo ed è la migliore gara di Morbidelli da molto tempo a questa parte va detto che il unesimo posto dell'Italo brasiliano è viziato da un doppio giro lungo di penalità per il responsible riding nelle prove libere si ritira anche Fabio Di Gian Antonio e con questo chiudiamo il nostro panorama sugli italiani se il mondiale MotoGP aritmeticamente è ancora aperto ma è molto indirizzato tutto da giocare invece è il mondiale della Moto2 la classe intermedia Sepang ha regalato una gara oltremodo spettacolare condizionata anche dall'episodio incredibile dell'ultimo giro perché Ayogura leader del mondiale praticamente entrante in questa gara di Sepang che partiva dalla full position si stende forza troppo la staccata al tornantino di ritorno per provare a superare Tony Arborino nel giocarsi la vittoria all'ultimo giro e questo zero di Ayogura è pesantissimo perché riconsegna la leadership del mondiale ad Augusto Fernandez che ha dovuto giocare in difesa totalmente questa gara e questa può essere un'ammazzata psicologica importantissima per il piatto giapponese che è vero che rimarrà l'anno prossimo ancora una volta in Moto2 ma era bello secondo me per Ugura arrivarci da campione regnante e difendente della categoria mentre così c'è il match point per Augusto Fernandez che invece l'anno prossimo andrà in MotoGP ad affiancare Polisci e Sporgaro nel team Gas Gas questa gara è stata molto bella era stata una grande lotta a due appunto sia tra Arbolino che appunto tra Ayogura appunto alla fine Ugura si stende e regala la vittoria a Tony Arbolino che però ha meritato fin dall'inizio la vittoria della gara della classe intermedia di Sepanga e la terza vittoria in stagione per quanto riguarda il pilota di Garbagnate Milanese per il quale ancora una volta suona il canto degli italiani ma Arbolino non è appunto un contendere a titolo del mondo ma appunto è importante vedere quello che è successo dietro perché Augusto Fernandez fa quarto e dunque ha un vantaggio minimo risicato mi verrebbe da dire ma comunque regalerà grandissima attenzione alla gara di Valencia classifica che appunto adesso recita in questo modo Tony Arbolino è quarto assoluto in campionato mondiale con 175 punti virgola 5 quarta terza vittoria stagionale a fronte di quattro podi seconda posizione per Alonso Lopez il rookie terribile che sorprende sempre di più arrivato ricordo una volta stagione in corso per cambiare Romano Fenati e ha già fatto due vittorie e cinque podi veramente clamoroso l'impatto di Alonso Lopez sulla classe intermedia della Moto2 e terzo è Jake Dixon che è un abbonato al terzo posto sei podi in questa stagione entrambi terzi posti per un altro che l'anno prossimo il Moto2 potrà dire assolutamente la sua Ogura purtroppo si ritira per questo errore scellerato da parte sua Augusto Fernandes limita i danni con una gara un po' alla quarta da Rau ma a differenza del francese qui Fernandes esce da Sepang in modo insperato e clamoroso come leader del campionato del mondo e adesso ha un vantaggio importante perché parliamo di 251,5 punti contro 242,7 punti e mezzo che in realtà sono una forbice non così ampia a Valencia sarà veramente una gara di tenersi incollati fino in fondo per vedere chi la spunterà tra lo spagnolo e il giapponese l'ultimo mondiale è quello della Moto3 ma sappiamo che la Moto3 invece ha avuto già il suo campione del mondo ovvero Isan Guevara ciò nonostante la gara di Sepang della Moto3 è stata assolutamente mostruosa e interessante vince il venerabile maestro John McPhee pilota scozzese trionfa per la quarta volta in carriera in Moto3 e ha la meglio in una gara in volata per una gara pazzesca che vede la doppietta dello Sterling Garden Max Racing Team appunto lo scozzese peraltro è all'ultimo anno di Moto3 perché appunto McPhee ha 28 anni e a questa età è diventato il vincitore più anziano della categoria Moto3 categoria che in teoria sarebbe un punto un trampolino di lancio per le categorie successive quindi Moto2 e MotoGP ma appunto il venerabile maestro il più anziano di tutti alla fine li mette tutti in fila e va a vincere davanti peraltro sul controllo di squadra Yubo Sasaki per una grandiosa doppietta dello Sterling Garden Max Racing Team John McPhee appunto per raggiunti limiti d'età dovrà abbandonare la categoria e chissà se lo vedremo in Moto2 o in Supersport il prossimo anno fatto sta che per la prima volta nel Moto Mondiale suona God Save the King visto appunto le note vicende per la corona britannica vittoria per l'outsider John McPhee seconda posizione per Yubo Sasaki quindi garantita la doppietta per Lusquarna la casa svedese di proprietà della KTM fa un risultato storico della prima doppietta dell'Uusquarna da quando appunto era entrata nel Moto Mondiale in Moto3 e terzo è Sergio Garcia che con questo terzo posto non dico ipoteca al terzo posto nel Mondiale va detto però che appunto c'è ancora un distacco di 8 punti tra lui e Foggia il nostro miglior italiano competitivo in questa classe entrante che però ha fatto soltanto sesto al termine di una gara di volata che ho visto appunto sei piloti coinvolti questo appunto è il Racing Podcast per quanto riguarda il Moto Mondiale che appunto avete visto oggi alle 2 domani sempre invece alla stessa ora ci sarà il Podcast per quanto riguarda la Superbike che corre invece stasera gara 2 a San Juan insieme alla Supersport in ogni caso questa è la classifica del Moto Mondiale con una gara da giocare ancora con Bagnaia che ha messo una serie ipoteca su tutto il mondo anche se per la matematica è ancora aperta rispetto a Fabio Quartaro il saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo domani con il nuovo Racing Podcast e poi ci vediamo domani con il nostro canale Grazie a tutti.